Ci interessa solo tutelare la salute dei lavoratori, le questioni sindacali non ci riguardano. Così il responsabile regionale del Tribunale per i diritti del malato, Edoardo Facchini, sulla vicenda dei dipendenti della Magneti Marelli di Sulmona, che nei giorni scorsi hanno bussato alla porta del TDM, lamentando turni di lavoro pesanti. Stando a quanto riferito dei lavoratori, il cumulo di riposo giornaliero e settimanale non sarebbe pari a 35 ore, come stabilisce il Decreto Legislativo 66-2003 all'articolo 4. L'azienda inoltre permetterebbe ai dipendenti di lavorare per sei giorni consecutivi. Noi stiamo solo facendo il nostro lavoro, in seguito a un problema posto da alcuni dipendenti, specifico e responsabile del Tribunale del malato. Quella che vogliamo tutelare e la salute dei lavoratori non ci interessa nient'altro nelle questioni sindacali e nelle critiche che sono arrivate nei nostri confronti, aggiunge Facchini. Il Tribunale per i diritti del malato più di una settimana fa, tramite legale Katia Puglielli, aveva scritto ai vertici della Magneti Marelli, chiedendo un incontro per valutare la corretta applicazione delle norme e aveva dato incarico a medici di fiducia per verificare se fosse stata lesa o meno la salute dei lavoratori.